Oggi al forum della fabbrica per l'eccellenza abbiamo voluto affrontare il rapporto che c'è tra lo scopo dell'azienda, il purpose e la nostra organizzazione. Come si fa ad attrare talenti nella nostra azienda? Come si fa a tenerli? Come si fa continuamente a valorizzarli? E quindi abbiamo affrontato il tema della leadership. Cosa vuol dire veramente essere leader? Vuol dire essere un capo assoluto o vuol dire essere una persona autentica che entra in azienda col primo scopo di comunicare il purpose e la mission ai propri collaboratori? E poi abbiamo capito anche che quando una persona è in difficoltà all'interno dell'azienda di solito lo può essere per tanti motivi, per un problema personale, per un problema di relazioni col proprio capo. Ecco la grande capacità del leader è quella di saper ascoltare, di saper guardare questi temi e saper comunicando la propria vision quella di essere capaci di prendersi cura delle proprie persone. Ecco credo che il seminario di oggi ci stia aiutando veramente a capire che curare le nostre persone è forse il primo grande traguardo e dovere della nostra azienda. Grazie a tutti.